In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo. L'anticiclone africano che per quasi l'intero trimestre estivo ha interessato la nostra regione è in fase di attenuazione a causa di una goccia fredda in quota che, staccatasi dalla circolazione subpolare, si è portata sulle nostre regioni centrosettentrionali. Il cedimento barico in quota è ben visibile sulla mappa prevista per le prime ore di sabato 24 agosto, dove è evidente una debole circolazione depressionaria in quota colma di aria fresca che abbraccia quasi tutto il centro nord della nostra penisola. La rocca forte dell'anticiclone africano si limiterà ad interessare il Nord Africa spingendosi parzialmente sulla penisola iberica. Tuttavia va sottolineato che sul Mediterraneo non avremo nessun cambio di circolazione, ovvero nessun passaggio di fronti perturbati. Infatti sulla mappa possiamo notare come questi scorra alle alte latitudini europee. L'instabilità che si manifesterà a suon di temporale su molte regioni della nostra penisola, compresa la Campania, sarà legata alla presenza di aria fresca ed instabile che stazionerà in quota e che, contrastando con quella molto calda ed umida presente nei bassi strati, renderà instabile l'atmosfera nelle ore centrali della giornata, segnatamente lungo la dorsale appenninica. Una situazione che rientra nel normale corso dell'estate mediterranea, alla quale probabilmente non siamo più abituati, grazie alle invasioni sempre più frequenti dell'anticiclone subtropicale. E per le giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto cosa ci attende, Giuseppe? Domani sabato 24 e domenica 25 agosto saranno due giornate pressoché identiche, con cielo generalmente poco nuvoloso lungo la costa, mentre addensamenti consistenti interesseranno le aree interne dell'Appennino, dove nel corso del pomeriggio saranno possibili rovesci temporaleschi anche di una certa intensità. I fenomeni localmente prima del tramonto potrebbero interessare anche alcuni tratti di costa. Temperature in lieve diminuzione, ma con valori ancora lievemente superiori alla media del periodo. Venti deboli tra sud-ovest e nord-ovest e mare tra poco mosso e mosso. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, come sarà il tempo previsto? Pochi cambiamenti anche nei primi giorni della prossima settimana, con instabilità pomeridiana nelle aree interne associata a rovesci temporaleschi. Più soleggiato lungo la costa, specie nella prima parte della giornata, le temperature non subiranno particolari variazioni, attestandosi su valori normali per il periodo. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it